Elezioni regionali tra settembre e novembre, cancellata la finestra di luglio. Il provvedimento approvato nel Consiglio dei Ministri non è piaciuto ai presidenti delle regioni di Puglia, Campania, Liguria e Veneto, Michele Emiliano, Vincenzo De Luca, Giovanni Totti e Luca Zaia. Nel Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, scrivono di concerto in una nota, è stato approvato un provvedimento che prevede lo slittamento del voto tra settembre e novembre e cancella la finestra sulla quale erano state consultate, con esito positivo, molte delle regioni che andranno al voto. Spiace che il governo abbia approvato un diverso decreto senza alcun ulteriore confronto, incalzano i governatori. Ovviamente, aggiungono, aspetteremo di leggere il testo per esprimere un compiuto giudizio che vada oltre il metodo. Ribadiamo la necessità di garantire agli elettori l'inalenabile diritto ad esprimersi nel tempo più rapido possibile, compatibilmente con l'andamento delle pandemie. Pertanto, ritenendo, per quanto è possibile prevedere oggi, l'estate sia la stagione più sicura dal punto di vista epidemiologico. Ribadiamo quindi la necessità di allargare la finestra di voto, come da noi richiesto, al mese di luglio. In ogni caso, è comune intendimento delle nostre regioni convocare i cittadini al voto nella prima data utile consentita dal provvedimento del governo. Si deve andare a votare quando è più sicuro per la salute dei pugliesi, non certamente quando è meno certa la rielezione di Michele Emiliano. Sbotta la candidata alla presidenza della regione Puglia per il Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia, replicando alla nota estate o autunno, prosegue, la Puglia sarà la prima regione 5 Stelle d'Italia. Anch'io non vedo l'ora di chiudere il capitolo della vecchia politica in Puglia ed aprire all'amministrazione della partecipazione. Innovazione, trasparenza, a cui ci stiamo preparando, ma per me la salute dei pugliesi viene prima di tutto, anche del nostro progetto politico innovativo, anche di me stessa. La paura di Emiliano di perdere la poltrona, conclude Laricchia, non può venire prima della salute dei pugliesi.